Ciao ragazzi sono Indoraptor2030 e benvenuti in un nuovo episodio di Indoraptor2030 Oggi prenderemo Energetic ragazzi, si prenderemo Energetic che sono arrivato finalmente alla sua soglia In realtà ho scioppato, ma è la stessa cosa, lo riscatteremo e quindi saremo felici Quindi lo prendiamo fra 3, 2, 1, via! Energetic! Ce l'abbiamo ragazzi, Brawler cromatico 2 su 2 Tadà, abbiamo Energetic E io lo metto subito ovviamente, lo metto anche come foto di profilo Così tutti vedono che ce l'ho Invito anche il sito, così lo vede, e però mi ha rifiutato, e vabbè Non vuole giocare con uno che è Energetic, peggio per lui Ok, allora ragazzi, ho visto che poi è molto genere, potremmo prenderci una skin Comunque sono felicissimo adesso di avere Energetic, mamma mia Quante skin, vabbè, domani potremmo prendere Jackie per fare tutto No vabbè, dai Vabbè, ora facciamo quindi delle partite con Energetic Che lo voglio subito provare ovviamente Comunque ragazzi, secondo me in italiano e in inglese li devono cambiare nome Energetic Perchè non ha senso che in inglese li devono cambiare in una lingua Comunque la ulti è davvero potente, perchè poi in teoria si ricarica in 3 corpi Poi non sono sicuro, però in teoria si ricarica in 3, da lì, giù Già che ognuno si ricarica in 3, dai 3 colpi puri Vai Dai Dai, dai, dai Nooo, come cavolo ho fatto a girarti di botto? E vabbè 2, 4, dai 3, va bene Sì, vabbè, hanno comunque poi Energetic enorme E giù di me Io però voglio arrivare alla World Space Scrivo anche nel club Mi raccomando ragazzi entrate nel nostro club Lo so, poche coppe Ma se entrate tutti Avremo tantissime coppe Mi raccomando entrate nei Pro Leon che fa troppo schifo Scriviamo O Ener... 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 O Ener... Ener... Ehm... Facciamo altre partite in... No... Vabbè Arriva di giù a salto Super City di muro Dai Che hai E poi Soprattutto Forse Però impossibile Tanto Super City Per esempio Un single bag Qui Ehm... Mi raccomando le persone 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 Diretti Un Sub Che Ehm... Voglio arricarmi Adicare Periché Mi vuole fare almeno un potenzamento per vedere Bene che è che funziona Si Intendo Q potenzialmente ah le ali 10 buonissimo e ho fitness e ho fitness e ho però Brewstack le decontenze e ho fatto e ho fatto per Brewstack secondo me per me lo pensa così però io non penso che non lo è vai altro spezzamento ora abbiamo pure tipo gli occhialoni vorrei non ucciderlo per ricarmicarmi è l'ultimo si vabbè dai facciamogli piccare vita e ora lo picchiamo e wow la spadona e ora però mi piace piccolo bo ma deve morire e lei deve morire oh eh eh vuoi stare team e voi lo facciamo e vabbè non vuole lo lascio lì e io non so ma vabbè ma questo c'è simbolo c'è da qui non lo so vabbè dai perché non vuoi morire è sei arrabbiato lo so io invece sai come sono felicissima di uccidere ciao addio Farimi vabbè vabbè ragazzi il video finisce qui iscrivetevi al canale che non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace e ditemi nei commenti se anche voi avete energetic e da io energetic ciao ragazzi vabbè 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 nell'anno in